Veniamo ora alla battaglia della Lega Nord contro lo Ius Soli, andiamo in Piemonte con il deputato Stefano Allasia che ci parla di un caso che riguarda il comune di Rivalta in provincia di Torino. Sentiamo. Onorevole, nel comune di Rivalta in provincia di Torino il sindaco voleva dare la cittadinanza simbolica ad alcuni immigrati e la Lega Nord si è opposta. Sì, si è opposta perché troviamo indecoroso per tutti gli altri cittadini, anche per gli extracomunitari, non aprire un dialogo effettivo. Il sindaco marinare, il sindaco Notav, eletto con i voti dei Notav lo scorso anno, ha proposto in Consiglio Comunale di regalare la cittadinanza onoraria a tutti i nati immigrati nel proprio comune. Troviamo fuori luogo perché noi continuiamo a ribadire che deve esserci un percorso di integrazione e deve essere l'arrivo di un percorso la cittadinanza. Non può essere la partenza la cittadinanza, perciò prima si integra, prima si capisce cosa si vuole fare nel proprio territorio, nel proprio paese e poi dopo c'è la possibilità di un dialogo. Ma noi troviamo fuori luogo assolutamente che non ci sia stata la possibilità di dialogo, soprattutto con i rivaltesi, che troviamo abbastanza indispettiti perché prima ci deve essere una discussione più aperta, più allargata, con un referendum cittadino come abbiamo proposto e poi successivamente parlare di cose concrete. Bisogna parlare di Rivalta di lavoro, di cassa integrazione, di esodati. È una città con una forte deindustrializzazione, perciò il sindaco si deve rendere conto che i problemi di rivaltesi non sono gli immigrati, quelli che lavorano, quelli onesti, ma sono, dandogli la cittadinanza, ma sono un problema effettivo di lavoro e di economia. Grazie a tutti.